a scendere di qua mi ammazzo mi piace un cacchio di qua no ho capito ma qua ti ammazzi e non cazzo se ti scappa via lì ti infiori e ho capito se si incuzzala ti infiori no 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 non mi piace così è meglio perché sei andato giù con la faccia non che così è stato meglio giù è oi 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 anche lì si viva giù davanti che si inculta così vai giù di faccia peggio Ehi, io non l'ho fatta, ehi dai spampinato, ti fa un effetto stupido eh, se no manavra io ho giocato tre jolly, vedi quel boccione là all'inizio, era qua, la moto era là, lui l'ha preso l'ha buttato su lì, il boccione ha fatto bu 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 bu, ha fatto così da manuvo, beh, dai allora, se c'è la gargamella lo faceva, di testa lo faceva, senza frizione, ti hai cambiato le figure te, ti diventi Struz come lui, dai vedi giù a culo indietro come ha fatto Zappa, io sono venuto giù a culo di traverso, a dire la verità, cioè, ho il pelo di lasciarla andare, io sono arrivato per così, ci vuole un badile, è tutto lì guarda la spazzatura, hai visto cosa hanno buttato giù, cioè porco diavolo, ha riempito tutta la riva, questi barboni oh, dai devo venire giù, devo prenderti, mi devi far far fatica, perché tu non l'hai visto come l'ho fatta io, col gomito, ma ascolta, no perché ti ho fatto un video apposta, non hai preso una rete giù là sotto, tipo albero di Natale, che cosa, no eh, te l'ho lasciata lì apposta cazzo, perché io l'ho presa, mi è andata dentro tra la ruota, il telaio, il coso, è andata dentro fino in fondo sotto e mi sono rimasto l'incastrato, e non usciva più, ma ricordiamo tutte io stamattina, l'albero di Natale sembrava, basta non scende più Spampi, fai il giro, scusa, Spampi fai il giro, passa sul cemento, esci già lì, adesso va giù a scavare cucù guarda che sotto lì è alto un metro e mezzo, ci affoghi il sesso lì non l'abbè mai fatto per quello, è cemento ma è viscido come non mai, si, tipo così sta lì a scavare lì, a scavare a metà che non c'è più il segno, dai che c'è gli stivali nuovi, li rovini tutti, il sasso di me è piattuto, tipo questo che mi va, mi sono piegato a loro, giù, 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 filmare no eh, o la motosega, o la telecamera, o il seghetto, tutto insieme, aspetta, aspetta a fare le cazzate, che arrivo, cacchio, ma su di qua tre volte, l'ho ripulita tutta perché c'erano tutti i pezzi, e beh questa, questa l'abbiamo già deviata più di una volta, ma non c'è verso, non c'è maniera, viene giù e va dentro qua, l'abbiamo provato anche a spostarla di là, vedi che di là un po' più, non c'è verso, cioè guarda che i tempi, quando aveva iniziato era l'aere, l'aerea, questa non c'era, c'era solo la rampetta, bravo, tipo quella di lì, era solo così eh, guardate che cosa ha fatto qua, poi ti dicono sei te che rovini i boschi Figaro, cioè qua è così eh, e abbiamo già deviata più di una volta, vedi anche lì guarda, è un pochino adesso però la presa, perché vedi che effettivamente, senti, camioncino, no basta che non ce lo buttano adesso, che ce lo buttano addosso, perché non mi stupirei, non mi stupirei,